Amiche di Donna Glamour, buongiorno, mi presento, io mi chiamo Cinzia Barberis, sono un medico, un medico chirurgo, patologo clinico, ma da anni nella mia attività quotidiana e privata mi occupo di benessere. Dare una definizione di benessere è piuttosto complicato perché lo vedremo, lo declineremo nei vari argomenti che portano e solidificano il concetto di benessere appunto, ma quando dico di occuparmi di benessere è perché utilizzo in maniera sinergica medicina complementare, terapia nutrizionale e medicina estetica, che se ricordiamo medicina estetica non solo, ma anche nel concetto di tecnicismo, ma proprio per far aiutare ognuno di noi a star meglio. Arrivederci, a presto! Grazie a tutti!